Benvenuto 2017, benvenuti ai suoi neonati. L'Abruzzo celebra l'arrivo dei nuovi nati come segno benaugurante. Pescara incorona Noemi, Teramo celebra Matteo, ma il vero primo classificato è Filippo, nato all'ospedale di Chieti alle 3.05 del nuovo anno. Nella mattinata il sindaco Maurizio Brucchi è andato a dare il benvenuto a Matteo, nato alle 8.45 del 1 gennaio e figlio di un assessore del comune di Crognaleto. Matteo che è un teramano però ha il papà che è assessore al comune di Crognaleto, quindi viene dalla montagna, è origine del nostro entroterra. Poi ci sono altre due bimbe che sono nate subito dopo Matteo e sono entrate una di Castelli e un'altra di Cortino, quindi c'è un po' la montagna che si ripopola, dopo si dice tanto che c'è questa tendenza ad allontanarsi dalla montagna. Sempre una bella giornata questa. Oramai sono più di 8 anni che vengo a salutare il primo nato, ogni volta è sempre un piacere dare il benvenuto nella nostra città, in questo caso, ma al mondo a questi bimbi, cercando come dico sempre di svolgere meglio il nostro compito, nel far sì che le condizioni che dobbiamo creare, io come sindaco di Teramo, l'amico Peppino D'Alonzo, come sindaco di Crognaleto, noi come amministratori, cercare di fare il massimo, perché poi questi bimbi trovino tutte quelle necessità, si possa dare risposta alle loro esigenze, da quando nascono, fin quando crescono, poi vanno a scuola e così via, quindi questo è un impegno che cerchiamo di assolvere sempre con grande determinazione, poi qualche volta ci si riesce, qualche volta no. Grazie.